ciao a tutti benvenuti per questo secondo appuntamento che riguarda la serie tv di the mandalorian cosa cosa faremo in questa seconda puntata quello che abbiamo fatto nella prima cioè vi racconterò le mie impressioni le mie sensazioni e le curiosità che sono riuscito a pescare in questo decimo capitolo della serie tv the mandalorian ovvero il secondo episodio della seconda stagione molto bene partiamo subito col titolo che è il passeggero e partiamo anche con il regista che è il vociferato peyton reed in realtà vociferato era già stato confermato da tempo molto bene la puntata purtroppo non è arrivata alle aspettative che personalmente avevo a differenza del capitolo 9 che le ha superate di gran lunga questa mi ha un po deluso la verità è questa anche se della ciccia ce n'è ce n'è parecchia è una puntata un po secondo me sconfusionata con alcune cose buttate a caso domande aperte di cui non si capisce la risposta tante cose che non torna qualcosina di cattivo gusto personalmente parlando insomma è una puntata che mi ha un po destabilizzato è molto più corta dell'altra mi sembra che duri sui 42 minuti ma con tutta la parte intro perché viene presentata in maniera ben specifica perché è una sorta di connessione con una puntata della prima stagione non così tanto ma comunque ci sono un paio di robe che era giusto precisarle per cui insomma mi aspettavo in realtà mi aspettavo una parola troppo grossa speravo che potessero mantenere quel livello e continuare con una botta simile al capitolo 9 e invece secondo me hanno tirato un po il freno la cosa fondamentale che io adoro ma che molti criticano ma vabbè è la cosa più normale del mondo è che continua a mantenere la sua verticalità di puntata in puntata per cui anche questa ha una sua storia ha un suo arco narrativo che probabilmente non è ancora finito vedremo come probabilmente non è ancora finito quello del capitolo 9 ma non è consecutivo diciamola così ci sono diverse curiosità non non quanto la capitolo 9 ma ce ne sono già diverse per cui parliamo più di quello che starvi a recensire l'episodio che ve ne frega il giusto guardatelo comunque perché siamo comunque in quella galassia lì ed è la cosa più importante allora le curiosità sono diverse innanzitutto partiamo consecutivamente alla fine del capitolo 9 per cui vediamo il mando con la sua speeder bike e la sua bella armatura di boba fett alle spalle che si dirige verso tatooine lo vediamo in una in un piccolo frame del trailer con la differenza che anche in questo caso l'immagine è specchiata io immagino che sia specchiata per depistarci un pochino no mi immagino queste cose per confonderci vi ricordate c'erano alcuni leak in cui si vedeva già l'armatura molto sfocata in questa sequenza ma il casco di boba fett era sulla destra come vi ricordate alla fine del capitolo 9 il casco di boba fett lui l'aveva messo sulla sinistra e questo perché questa sequenza d'apertura è esattamente specchiata ed è la stessa che era nel trailer rispecifico si trova davanti all'imboscata ci sono tre classici energumeni o feccia galattica che gli gli piazza un'imboscata per rapire ancora una volta il bambino per cui si torna su baby yoda su the child in questa puntata è molto più presente è molto è una puntata decisamente simile a quello che abbiamo visto nella prima stagione molto diversa dal capitolo 9 per cui partono con questa imboscata di questi tre malintenzionati troviamo due creature che abbiamo già vista una è abbastanza famosa che è il nicto rosso nicto rosso è uno dei vari gangster che contornano fanno parte di tutto questo gruppo di malintenzionati che sta con jabba alla fine del ritorno dello jedi lo riconoscerete subito mentre abbiamo anche un come 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 viene chiamato junk minion che è una sorta di java con questa maschera di metallo che abbiamo già visto in the force awakens su jacku quello che praticamente doveva scambiare o addirittura pagare rei non mi ricordo so che gli rompe i maroni a rei quasi subito ad inizio film ve lo ricordate che gli dice qualcosina che ha detto assomiglia a un java perché c'è il cappuccio marrone esatto lo rivediamo il resto è un umano fanno un po a slap e pacone molto carino non succede niente di che non serve niente ci fa solo capire che non è proprio una cosa così stupida che nella galassia stanno ancora cercando il bambino cosa che un po avevamo dimenticato no perché eravamo convinti che si era sistemato tutto col fatto che mando aveva seccato poi tutti no invece no lo stanno ancora cercando molto bene si va avanti arriva su tatooine non ha più la speeder bike perché è stata distrutta nella nell'imboscata arriva con questo pezzo di speeder bike dove tiene attaccato un po tutte le varie robe che si porta dietro dalla carne di krait a tutta l'armatura di boba fett e quest'immagine secondo me è evocativa ma non ricordo di cosa ricordo di ho questo ricordo di questo di questo bounty hunter o classico personaggio western con sto cappello con sto cowboy che arriva in città col bastone tenendo non ricordo di cose non ricordo se ne sono manco inventato io arriva su tatooine va direttamente alla cantina di mosaisley per rinfrescarsi e ritrova pelimoto che gioca a sabac con una delle creature insettoidi che abbiamo già visto nel capitolo 5 della prima stagione quello che sembra una sorta di mega formicone mantide con gli occhi gialli che sa indicargli qualcuno per poter trovare un altro gruppo di mandaloriani infatti lui è la chiave e poi dello svolgimento della puntata molto bene all'ingresso piccola curiosità vediamo un personaggio peloso bianco che altro non è che un gigoran il gigoran è quel enorme pupazzone bianco che abbiamo confuso per un walkie in rogue one che in realtà nella campagna marketing era bello presente ma nel film si vede di sfuggita e poi manco bene per cui insomma moroff si chiamava per quello che riguarda rogue one procediamo lui è di nuovo al dock al docking bay di pelimocchi 8 in attesa di partire e vediamo che si cuociono la carne di kreitz sono i pit droid e c'è anche un droide wed ve li ricordate i droidi wed detto così forse non vi ricordate forse non vi torna ma è quello col binocolo quadrato tenerissimo di anewop lo vediamo più volte un bastone con questo binocolino che gira con la base con i cingoli ecco lo vediamo fare da come si chiama da tenere la carne e poi fare il giro arrosto praticamente un giro arrosto droide fantastico riconoscibilissimo succede che lui sta per partire ma lei gli dice guarda aspetta c'è no prima nella cantina dice c'è il mio contatto c'è un contatto che ti può ti può dire dove sono questi mandaloriani in che sistema sono e ti può aiutare arriva questo contatto ma lui la deve portare con sé dico la deve perché è lady frog lady frog è un alieno tipo ranocchia che abbiamo già visto sempre nella cantina sempre nel capitolo 5 di sfuggita ed è interpretata da misti rosas curiosità interessante di questa puntata perché misti rosas è l'interprete fisico di quill lugnaut che abbiamo visto quello che amiamo abbiamo amato tutti nella prima stagione è sempre lei una performer è molto molto brava è una persona estremamente dolce lo dico perché la sto seguendo sui social sia su instagram e su facebook non ha tantissimi follower per cui anche risponde è sempre molto gentile molto disponibile finché ha quei numeri lì lo può fare immagino che se un giorno esploderà sarà difficile che possa considerare tutti i messaggi che gli mandano io gli ho scritto mi ha risposto in maniera molto gentile per cui vi consiglio di seguirla non si sa mai che gli scapi qualche spoiler ma la dubito ne dubito si procede lui ha capito che la deve portare con sé la deve portare con sé perché lei ha un contenitore con delle sue uova tra l'altro sono le ultime uova della sua stirpe per cui per forza deve andare su questo pianeta acquatico che è la luna viene chiamata ogni tanto leggo qua perché non mi ricordo i nomi la luna marina di trask la luna marina di trask immagino per forza di cose che sia quel pianeta acquatico che abbiamo visto nel trailer ok molto bene la luna marina di trask è un pianeta nuovo idem il come si si chiama la è in orbita è nella zona nel settore di un gigante gassoso che si chiama col i ben che anche questo è un luogo nuovo sapete che in star wars o si torna nei pianeti vecchi o se ne inventano sempre di nuovi perché insomma è un come posso dire è un sse di star wars ci sono diversi punti fissi tra cui ci sono i pianeti mostri giganti e lo sporco la ruggine vi dicendo anche quello per me è fondamentalmente guerre stellari molto bene e c'è però un compromesso non può andare a velocità della luce e che è un bel conflitto per il mandaloriano perché dice io mi salvo la pelle andando a velocità luce perché così non mi possono intercettare e però dice vabbè sono il mandaloriano io quando dico una cosa la devo fare in cambio di questa informazione fondamentale farò questa cosa qui la caricano e se ne vanno e partano a velocità su blu ciò che è pericolosissimo qui c'è una delle tante cose che un po non ci sono un paio di cose in questa sequenza che non mi hanno convinto la prima su tutte è che vediamo questa scena in cui c'è the child baby yoda che si avvicina a questo contenitore di uova usa la forza appoggia le manine al vetro e queste uova vanno verso baby yoda ed è una roba molto tenere ma perché perché baby yoda è tenero perché le uova sono la vita sono le ultime uova di una stirpe di una di una razza che sta per estinguersi per cui ci ho immaginato qualcosa di molto romantico dietro in realtà baby yoda semplicemente se le vuole mangiare e se ne mangia anche 3 4 cosa che a me non è piaciuta proprio per niente di cattivo gusto e ho paragonato a ciube che mangia i porg una roba di un cattivo gusto bestiale vabbè lasciamo perdere ci sta nel personaggio è a senso è un bambino non capisce per cui ci sta a livello narrativo non è una critica generale è una roba mia personale che mi ha dato un fastidio mi è piaciuto di meno perché a un certo punto che succede arrivano in un'altra situazione arrivano due x wing e lo fermano e gli fanno un piccolo interrogatorio lui cerca di nascondere il fatto che ha lady frog e questa cosa non l'ho proprio capita non c'era motivo di nascondere un passeggero non ho visto il motivo immagino lui volesse nascondersi da quello che aveva combinato nel capitolo 6 e questo lo scopriamo più avanti che è così però non è tutto così chiaro è chiaro perché i piloti x wing gli dicano ma tu non sei quello che ha fatto quello in quella in quel contesto e lui cerca di cambiare discorso e questo lo capiamo ma il fatto che lui voglia nascondere lady frog mi è completamente insignificante non ho capito la motivazione non ho capito cosa l'ha spinto nascondere il suo passeggero detto questo sembra che si sono liberati sembra che sia finito un po questo impasse questo blocco della nuova repubblica e lui gli dice che la forza sia con voi e anche questa cosa qui un po mi ha mi ha destabilizzato perché lui non sa che cosa sia la forza e da quello che ci hanno raccontato sente dire forza solo da per i motto nel capitolo 9 e come fa a sapere che devi dirgli che la forza sia con voi e non mi ha tornato sono cose importanti sono parole importanti quelli per la saga per cui e se tu sai se tu dici che la forza si con voi significa che sai che cos'è la forza e e significa che devi capire al primo movimento strano di baby yoda che lui è un detentore della forza questa cosa non mi ha convinto ci si può dire eh sì ma tanto nella galassia da tempo l'avrò scoperto no è una cosa talmente importante che mi devi raccontare il fatto che qualcuno gli dice che è cosa la forza altrimenti mi ha stonato in questo modo ma va bene diciamo che sono sempre gocce nel mare ok si procede a un certo punto sbrocca capisce che questi piloti x-wing tra cui torna del filone a interpretare il suo trapper wolf insieme a lui e qui lo leggo perché a un bordello c'è paul sun yang lee che è il captain carson tiva e la cosa interessante che lui è un comico coreano canadese di origine coreana ma canadese ed è anche un membro della 500 unesima infatti se lo cercate su google lo googlate lo trovate vestito in tutti i modi compreso anche la ghostbusters per cui insomma abbiamo capito che qua c'è un amore dietro c'è c'è una roba una voglia di coinvolgere i fan magari volete coinvolgere anche i fan italiani alzo il ditino e chiamatevi non lo farete mai lo so ma va bene per cui insomma questi due piloti sono già altri due piccoli easter egg lui non ci sta parte con il seguimento fugge da questi due pilota piloti e ci dimostra il suo manico nel pilotare la razor crest e ne ha tantissimo e spacca tutti i culi fa diverse manovre notevolissime molto bella questa scena spettacolare dall'inizio alla fine tanta roba probabilmente il punto più alto della puntata si infila e qui ritorniamo alla scena del trailer vi ricordate i 2x swing questa è tutta la scena del trailer lui si infila nel canalone e riesce a sfuggire in maniera super furba anche distruggendo un po' la razor crest si infila sotto una sorta di caverna di ghiaccio la caverna cede lui si trova in un'altra galleria con la razor crest ancora più massacrata lei è disperata lady frog disperata perché non ha più tempo perché gli fa vedere che le uova stanno per morire e trova il modo di adesso ve la faccio anche abbastanza corta trova il modo di parlarci perché non si capivano lei non parla l'uttese lei non parla umano lei capisce l'umano ma non riesce a parlargli non riesce a farsi capire e prende zero ve lo ricordate il droide sempre nel capitolo 6 lo modifica ne crea un microfono con il suo impianto vocale e riesce a colloquiare colloquiare con zero il mandoriano si caga sotto e dice ma questo fai è pericoloso bla 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 e lei dice no guarda gli ho solo preso la cassa e sto parlando non prima questo è il contesto generale lui capisce la cosa però dice non possiamo fare un cacchio addormentatevi poi domani mattina ci svegliamo vediamo cosa fare e anche qui sono un po' di scelte strane non so se sia peyton reed o non so però insomma questa puntata mi sembra sempre molto tirata via si svegliano lei è andata via perché non ce la faceva più doveva rigenerare forse le sue uova e lui la insegue col suo rage finder o quello che ha all'interno il suo localizzatore riesce a vedere le tracce la trova all'interno di una pozza calda all'interno di una caverna di ghiaccio con le uova che probabilmente proveranno una sorta di sollievo vengono rigenerate con l'acqua calda va bene quando entra in questa caverna ci sono decine e decine centinaia di uova baby yoda cerca di mangiarsi un'altra uova un'altra uova mentre il mandaglio online dice no cazzo fai cazzo fai allora lui va a cercare cibo da un'altra parte e qui ricorda molto alien su tutte queste uova lui ne apre una mangia e vediamo un ragno ora per chi ha visto rebels e per chi ha visto the clone wars sappiamo che questi ragni non sono una novità e infatti si chiamano e anche qui il nome perché sono veramente complicati i nomi di star wars si chiamano i kraikna sono ragni molto particolari con cui che hanno avuto a che fare sia con ezra che con kanan e anche con la forza in questo contesto non c'entrano niente la cosa veramente fighissima di questi ragni e dopo un po' logicamente arrivano tipo harry potter ve lo ricordate quando c'è non mi ricordo mi li confondo sempre shelob o aragok non mi ricordo mai una aragok secondo me sì shelob dovrebbe essere quello del signore degli anelli esatto aragok è la stessa scena con tutti sti ragni che saltano fuori di tutte le dimensioni fino ad arrivare uno gigantesco la cosa molto molto figa che mi ha fatto re innamorare di questa puntata è il fatto che uno di questi kraikna che questi kraikna non abbiano il design che abbiamo visto in rebels on the clone wars ma hanno il design che è stato studiato dal leggendario mc querri per la produzione dell'impero europish ancora infatti questi ragni in teoria facevano parte della fauna della fauna di degoba e c'è questo bellissimo schizzo in cui vediamo il ragno che è identico sputato con gli stessi occhi con le stesse mandibole e via dicendo cominciano a fuggire a scappare pistolettate ovunque con questo sangue verde che schizza ovunque riescono a salire sulla risa del crest che avevano in parte sistemato partono a un certo punto arriva un ragno un kraikna ancora più grande sopra bbom qui c'è una grande citazione dei force awakens con rattart con la con la testa con la faccia attaccata al cockpit che cerca di 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 stritolarla a un certo punto bim bom bim bom da fuori arrivano degli spari sono i due x wing dei due piloti che abbiamo visto prima che hanno trovato la risa del crest gli salveno il culo e dicono senti un po facciamo così tu abbiamo letto tutto abbiamo intercettato abbiamo capito che dai tuoi segnali cosa sei cos'è fatto per cui sei libero di andare eccetera eccetera e lui dice però allora lui dai aiutatene no hai già chiesto troppo adesso sono cavoli tuoi sistema il trasponder perché la prossima volta che ti fermiamo vogliamo controllare visto che hai fatto il fenomeno che avevi il trasponder che non era aggiustato per cui non fare il furbo e mi raccomando la prossima volta fatti i cacchi tuoi e stai in occhio che sappiamo chi sei e se ne vanno via questo l'ho un po l'ho un po detta io così e qui vediamo lui che riparte con la risa del crest scatafasciata logicamente la risa del crest ha parecchi buchi dietro è distrutta e questa cosa mi è piaciuta invece e lui dice stiamo solo nel cockpit perché è l'unico posto che possiamo pressurizzare perché dietro non potremo mai aggiustarla e partono e anche qui vediamo la parte iniziale del trailer in cui c'è tutta la risa del crest scatafasciata che arriva verso un pianeta che immagino che sia l'inizio del capitolo 11 che uscirà venerdì prossimo bene sono stato lungo abbiate pazienza ma non si può essere corti in più aumenteranno probabilmente le curiosità e non poco per cui abbiate pazienza gustatevelo ci vediamo venerdì prossimo per la terza puntata e il capitolo 11 ciao a tutti